Che cos'è lo short selling? Oggi trattiamo un argomento di formazione per quanto riguarda il trading online, un argomento un po' tecnico quindi non estremamente basilare, cioè quello relativo allo short selling. Come promesso vi ho ascoltato perché nel video precedente vi avevo chiesto se volevate un approfondimento su questo tipo di tecnica da poter utilizzare sui mercati finanziari per ottenere come sempre profitto, un'altra delle varie armi disponibili per l'investitore. Nei commenti del video avete risposto in maniera estremamente affermativa e quindi eccoci qui con una serie totalmente dedicata a come fare short selling. Bene ciò a tutti bentornati in questo nuovo video, sono Mauro Caimi, oggi parleremo della tecnica di short sui mercati finanziari, una tecnica di trading ma anche di posizionamento di breve periodo. Lo short selling è una tecnica di trading estremamente semplice, è attorniata da un velo, un velo come diciamo di dangerous, di pericolosità ma non è assolutamente così. In questo video cercherò anche di spiegarvi perché lo short selling non è assolutamente una tecnica pericolosa se usata con criterio. Iniziamo a capire che cos'è uno short selling. short selling significa vendere un titolo, uno strumento finanziario senza detenerlo in portafoglio. Immagino molti si staranno chiedendo come si fa a vendere uno strumento finanziario che io non ho ancora comprato. Lo strumento finanziario che andiamo a vendere ce lo presta il broker o la banca. Facciamo un esempio, immaginiamo che durante la mia attività di investitore, di trader sui mercati finanziari ho sviluppato una mia analisi che mi sta indicando che uno strumento finanziario è caro, ha un prezzo molto molto alto. A quel punto io credo che quello strumento finanziario possa scendere nell'arco dei prossimi mesi, nell'arco dei prossimi giorni o anche per chi fa intraday trading nell'arco delle prossime ore e posizionarsi ad un prezzo più basso di quello attuale. Qui interviene lo short selling come uno strumento tecnico che ci consente di poter vendere questo strumento facendocelo prestare dal broker o dalla banca o dall'exchange se parliamo di mercati delle criptovalute. Voi direte è estremamente semplice, è possibile che sia tutto qui? Sì esattamente è tutto qui ragazzi, è simmetricamente uguale all'operazione di acquisto di uno strumento finanziario. Un altro esempio, se io compro uno strumento finanziario lo compro sul mercato, aspetto un tot di tempo perché magari penso che lo strumento finanziario possa aumentare di valore, a quel punto venderò lo strumento finanziario. Se penso che uno strumento finanziario debba scendere di prezzo, non aumentare, posso venderlo ora facendomelo prestare dalla banca e ricomprarlo quando magari il prezzo sarà più basso, quindi più vantaggioso per me. La differenza tra un long e uno short è semplicemente lo spostamento temporale tra le due fasi di acquisto e vendita che si invertono ragazzi, si invertono semplicemente, mentre nel caso del long prima compriamo poi vendiamo, nel caso dello short prima vendiamo e poi ricompriamo. Come tecnicamente ricompriamo? Ricompriamo lo strumento finanziario e lo consegniamo alla banca o al broker che ci ha prestato precedentemente lo strumento. Facilissimo. Rispondiamo anche alla domanda perché utilizzare questa tecnica di short selling? La utilizziamo quando le nostre analisi ci indicano che uno strumento finanziario è caro, ha un prezzo molto alto e io penso per via delle mie analisi, per quello che ho costruito, che quello strumento finanziario possa perdere di valore, possa perdere a livello di prezzo nel prossimo futuro. Quindi preferisco vendere lo strumento finanziario piuttosto che comprarlo. Quale sarà il nostro profitto? Beh ragazzi, il profitto in questo caso si calcola identico a quando noi facciamo l'operazione long. Se io devo fare il calcolo del profitto basterà fare prezzo di vendita meno prezzo di acquisto e quello sarà il mio profitto. Nell'esempio in questione abbiamo venduto bitcoin a 7300 dollari, lo abbiamo comprato a 7000 dollari, la differenza fra i due fa 300 dollari il mio profitto. Teoricamente lo short selling ragazzi funziona così, poi nelle prossime puntate andremo anche a vedere comunque come farlo tecnicamente, su quali piattaforme, quindi ragazzi iscrivetevi se ancora non l'avete fatto al canale perché questi saranno dei video estremamente succulenti per chi di voi vuole diventare un contrader leggermente advance. Andiamo però a chiederci un'altra cosa fondamentale, lo short selling è pericoloso, c'è questo alone come vi ho detto prima relativo allo short selling che si pensa essere un'operazione estremamente pericolosa, niente di più sbagliato. Lo so ragazzi, io sono qui da anni sul canale YouTube a rompere queste credenze, queste cose che lo short selling ragazzi non è assolutamente pericoloso, non è un'operazione pericolosa, è la stessa identica operazione del long, dell'acquisto. Se voi fate short o fate un buy, un long non cambia nulla ragazzi, non c'è nessuna differenza fra le due operazioni. Qual è la vera pericolosità dello short selling? Che spesso ragazzi lo short si lega a doppio filo con la leva finanziaria. Allora lì entriamo in un altro mondo che ovviamente aumenta il rischio in maniera notevole, perciò ragazzi lo short selling se lo fate senza leva finanziaria ha lo stesso livello di rischio e di pericolosità di un'operazione long. Su quali strumenti possiamo fare short selling? Quasi tutti gli strumenti finanziari ma non tutti gli strumenti, quelli più importanti. Per esempio nel mercato hold tutti i future relativamente agli indici di borsa possono essere shortati, si dice così, possiamo fare short selling sugli indici, possiamo fare short selling su tutte le commodity, quasi tutte le commodity, le più importanti certamente ragazzi, quindi l'oro, il silver, il petrolio, possiamo venderle allo scoperto, si dice così in italiano ragazzi short selling era la vendita allo scoperto, fantastico termine, secondo me anche più bello di quello inglese, ma chiamiamolo in versione internazionale altrimenti ci confondiamo. Si può fare short selling anche sulle valute ragazzi, euro dollaro, il franco svizzero, lo yen e possiamo addirittura fare short selling anche sulle obbligazioni perché esiste il future del BTP italiano ad esempio del Bund tedesco che può essere venduto allo scoperto. Sui mercati crypto possiamo fare short selling utilizzando alcuni exchange che sono stati indirizzati a questo tipo di attività, ne parleremo più avanti nella serie perché parlerò proprio e vi farò vedere anche le piattaforme degli exchange di criptovalute, così come vedremo anche alcuni broker che ci consentono di fare short selling sui mercati old, però vi basti sapere adesso ragazzi che lo short sui mercati criptovalute è possibile farlo per una serie di altcoin, ovviamente bitcoin quasi su tutti gli exchange abilitati allo short, mentre alcune altcoin solo ed esclusivamente sugli exchange più importanti e con una piattaforma più idonea a questo tipo di operatività. Per quanto riguarda i mercati old, lo short è consigliabile per chi non ha esperienza svilupparlo sui classici broker CFD ragazzi, a tal proposito trovate in descrizione il broker CFD che io consiglio e utilizzo personalmente per fare questo tipo di operatività con capitali ridotti che non sono capitali molto ampi. Quando i capitali invece crescono notevolmente preferisco utilizzare i future veri non prodotti CFD ragazzi e i future potete utilizzarli attraverso il vostro istituto di credito, quindi la banca italiana assolutamente ragazzi, qui parliamo di un altro tipo di operatività, quindi solo e esclusivamente con grandi grandi capitali perché i future veri costano tantissimo ragazzi, quindi se voi volete operare senza utilizzare leva finanziaria dovete avere da 100 mila euro o dollari a salire di capitale. Perciò se volete provare questo tipo di operatività anche sui mercati old è meglio iniziare utilizzando un broker CFD, soprattutto se avete pochi cash e volete fare un po' di esperienza. Detto questo non resta che fare una cosa, andare sui grafici, andare su una piattaforma, aprire il conto e vedere come effettivamente premere il bottone e impostare un'attività di short selling. Lo faremo insieme nel prossimo video. Inizieremo facendo delle operazioni sui mercati old ragazzi e poi passeremo all'analisi e allo studio di quelle che sono le piattaforme di trading per fare short selling nei mercati crypto in primis con i famosi exchange adibiti a fare questo. Lasciatemi un mi piace per questi video, questa nuova serie che tra l'altro arriva direttamente da voi, quindi l'avete scelta voi. Lasciatemi nei commenti quello che pensate, quali sono i vostri dubbi perché se avete alcuni dubbi io potrò chiarirli nei video successivi. Per oggi è tutto ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Grazie!